Bene, buonasera, ci troviamo qui finalmente a commentare un'ulteriore vittoria del Catanzaro. Abbiamo auspicato una scossa all'ambiente, se ricordi facemmo un commento entrambi dopo una sconfitta, non quella di Matera perché è l'interno, ma la sconfitta di Benevento. Adesso ci troviamo finalmente a commentare la quarta vittoria di fila del Catanzaro. Cosa ne pensi, Ivan? Ma la scossa con il cambio in panchina ha dato i suoi frutti, i risultati li vediamo e sono quasi incredibili, nel senso che quattro vittorie di fila nella situazione in cui ci trovavamo non ce li saremmo mai aspettati. Stasera è stata una partita che definire esaltante è poco, nel senso che si tratta quasi di un'impresa, insomma la Paganese era sopra di noi in classifica, nonostante le sei assenze del Catanzaro, anche se mancavano anche dei giocatori un po' poco utilizzati da Erra. Comunque la partita si è messa subito bene con un gol di Agnello in semi rovesciata su una bella azione di Bernardi sulla destra. Poi c'è stato il pareggio della Paganese sul finire del primo tempo. Un genista Kunzi, un ex. Esatto, che poteva anche tagliarci le gambe perché comunque è arrivata a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Poi nella ripresa l'espulsione di Bernardi e quel gol di Razzitti in contropiede ispirato da una splendida azione di Maita con un Catanzaro che in 10 contro 11 per oltre mezz'ora è riuscito a resistere agli attacchi della Paganese senza peraltro subire, senza concedere occasioni da gollo alla Paganese. Voglio segnalare una prestazione incredibile nel primo tempo di Grandi che ha tenuto in vita il Catanzaro. Ha diventato con due interventi prodigiosi probabilmente, diciamo, un possibile gol da parte della Paganese. Esatto, è stato decisivo perché ha tenuto a galla il Catanzaro. Poi nel secondo tempo in 10 paradossalmente il Catanzaro ha giocato anche meglio rispetto a prima, si è chiuso di meno, ha subito meno da parte dei padroni di casa e ha portato a casa questi tre punti che sono fondamentali e che ci fanno ancora di più risalire in classifica e sperare anche in qualcosa di più che non sia la salvezza. Ma è una squadra che osa di più rispetto al passato, è impostata molto meglio sulla fase difensiva, ha un centrocampo che finalmente fa circolare palla e ci sono gli attancanti che ricevono delle palle giocabili in avanti. Diciamo che è una squadra completamente diversa e ci ha messo anche poco, diciamo, Mister Erra per riuscire a modificare l'assetto tattico e quindi è auspicabile che possa continuare a fare sempre meglio. Diciamo che ci aspettiamo delle mosse da parte della società per quanto riguarda acquisti possibili perché obiettivamente la Rosa in queste condizioni è abbastanza risicata perché abbiamo visto oggi che a un certo punto non c'erano sostituzioni disponibili e comunque abbiamo portato a casa un risultato positivo anche in nove. Volevo solo commentare la parte iniziale della partita per il ricordo di Angelo Mammi che è stata una bandiera del Catanzaro ma è stata anche una bandiera della Paganese e c'è stata la famiglia di Angelo Mammi che si sono portati prima sotto la curva sotto il settore della Paganese e poi sotto il settore ospite del Catanzaro. Devo dire che è stato un bel momento anche quello. È stato un bel momento con tutto lo stadio che si è alzato in piedi ad applaudire ci sono stati due striscioni da parte dei tifosi della Paganese che hanno ricordato Angelo Mammi come una bandiera del vecchio calcio un calcio nostalgico ricordiamo che Mammi ha regalato prima la prima promozione in Serie A al Catanzaro e poi ha regalato la prima vittoria in Serie A contro la Juventus nel 72 con un gol diciamo splendido di testa un gol nel fango devo dire un'altra cosa soltanto io vorrei parlare dello striscione che gli ultras di vicinanza al presidente con un duplice significato sia per la scomparsa del parente ma anche per dimostrare la vicinanza da parte della tifoseria al presidente e dell'ennesima dimostrazione del fatto che gli ultras e i tifosi sono sempre a fianco del Catanzaro. Anche stasera infatti abbiamo visto un centinaio di persone che hanno affollato il settore ospiti e hanno sostenuto per tutta la partita i giallorossi che in questo abbraccio che è cominciato ricordiamo sabato scorso con quelle splendide scene che sono state riprese anche dalla Gazzetta dello Sport dal Fatto Quotidiano, dai quotidiani nazionali questo abbraccio della tifoseria e la squadra dopo la partita a porte chiuse oggi ancora una volta dopo il gol di Agnello tutta la squadra è venuta sotto la curva e anche a fine partita si è cantato e festeggiato fino alla fine ringrazio Pino per essere stato da spalla in questa striscia vi diamo appuntamento a sabato prossimo per Catanzaro Andrea io invece vorrei ringraziare i fratelli Nocerini che ci hanno sempre accolto ed aspettato ed ospitato in ogni nostra partecipazione in quest'area geografica volevo salutare tutti i tifosi del Catanzaro e arrivederci alla prossima partita in trasferta per quanto mi riguarda grazie e buonasera spondiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti